Musica Ingegner Colangelo, amministratore della cale di Metto, un'azienda di service provider a Lenea per tanti anni che oggi si presenta al mercato con dei prodotti estremamente innovativi a Monaco all'AirTech. Le prime considerazioni e gli obiettivi che vi siete posti passando dal service alla produzione. Tutto semplicemente noi quando un paio d'anni fa abbiamo deciso di intraprendere questo nuovo percorso ci siamo chiesti quale fosse la strada migliore per poter entrare nel mondo della produzione aeronautica facendo tesoro di tutta la grande quantità di esperienze che abbiamo acquisito negli ultimi anni lavorando all'interno del settore aeronautico, principalmente nel mondo firmeccanico ma anche con molti altri clienti. Abbiamo ritenuto di non dover percorrere la strada che spesso si percorre semplicemente acquisendo delle facilità produttive ci siamo rivolti, come è nella nostra natura, ad un percorso di innovazione tecnologica e abbiamo affrontato il mondo della produzione additiva ritenendo che questo sia una delle maggiori sfide per il futuro e probabilmente sarà una delle tecnologie vincenti a partire dai prossimi anni. Siamo un'azienda molto innovativa perché semplicemente riuniamo una competenza ingegneristica con una competenza produttiva che passa attraverso le tecnologie tradizionali ma soprattutto si rivolge a tecnologie nuove che se in assoluto non sono nuove per il mondo del genere ma sono nuovissime nel mondo dell'aeronautica e dell'aerospazio. Particolarmente progettiamo in una maniera differente dal produttore tradizionale perché progettiamo aggiungendo materiale e non togliendolo abbiamo svolto una grande esperienza nella produzione con la tecnologia additiva quella che normalmente viene chiamata stampa 3D e che però nel mondo dell'aeronautica o nel mondo della meccanica di precisione riveste di un'importanza molto più strategica perché riesce a produrre parti aeronautiche come noi già oggi produciamo o parti di attrezzatura come ancora noi oggi già produciamo in un tempo molto molto più basso con dei costi sicuramente molto più bassi a patto che la progettazione sia svolta in una maniera corretta dimenticando quelli che erano i canoni classici della progettazione strutturale di una volta. Il Salone Airtec di Monaco di Baviera per noi sicuramente è stato un successo a prescindere dal fatto che è organizzato molto bene e che è la seconda esperienza che noi facciamo in questo tipo di manifestazione e anche l'altra volta l'anno scorso a Francoforto ci siamo veramente trovati molto bene. Per quello che riguarda noi è stato un successo perché tanta gente si è fermata, tanta curiosità abbiamo riscontrato e soprattutto molti contatti operativi che ci fanno ben sperare per il futuro perché l'apertura a un mondo internazionale che qui si vive in una città straniera per noi è molto importante perché questo tipo di tecnologia che come già detto noi portiamo avanti è una tecnologia che a 360 gradi può essere un breakthrough, cioè un cambiamento fondamentale nella modalità sia di progettare che di produrre qualsiasi prodotto e non solamente quello aeronautico.